buongiorno ben ritrovati su uncinetti allo sbaraglio oggi vediamo come realizzare il il poncho fiocco un poncho caldo avvolgente morbidissimo è realizzato con due colori contrastanti per decorare il mio poncho io ho realizzato quattro grandi mattonelle di 35 centimetri di lato e poi assemblate tra di loro e ho fatto un collo ho ripassato diciamo la parte superiore con una maglia in costa e la parte inferiore con un giro di maglie alte allora il poncho è bello ampio con mescolatura perché io l'ho pensato da metterlo su un piumino quindi da dare una copertura in più rispetto rispetto al più o meno semplice se voi volete fare un poncho invece che possa fungere anche da maglione più che 30 centimetri io mi assisterei su una mattonella con un lato di circa 30 30 centimetri io ho fatto un piccolo schema per farvi vedere come vanno poi sistemate le mattonelle eccolo qua come vedete ho scritto che a un lato di 35 centimetri vanno sistemate in questa posizione questo è davanti poi ci sono due mattonelle laterali e quello dietro per semplificare ancora di più la nostra il nostro assemblaggio ho posizionato le mie quattro mattonelle a forma di l quando ho cucito questo lato questo e poi questo l'ultimo dovrà essere collegato qui ok per proprio dare la forma questa forma o se no diciamo sul lato metterete la prima mattonella nell'altro lato accanto alla seconda e la terza dovrà essere posizionata un lato accanto all'altro a forma di rombo che forse è molto più semplice per non fare errori poi nell'assemblaggio però con dei marcatori dei punti ferma punti potete posizionare le mattonelle prima delle cuciture dell'ultima cucitura vedere se stanno bene è molto semplice come detto io utilizzato due colori contrastanti ho utilizzato un acrilico e lavorato con un uncinetto del del 4 come detto il mio punto infatti poi nella miniatura l'avete visto sul sul manichino cercato di restringere un po il collo quando l'ho messo su è molto ampio pertanto se vogliamo lavorare appunto un poncho da bambino da bambino oppure per una taglia inferiore io calerei decisamente i centimetri penso che un 30 centimetri potrebbe essere sufficiente per diciamo un poncho per da mettere come maglioncino qualche centimetro e meno a seconda appunto del della bambina che dovrà indossarlo io non ho ipotizzato un lavoro per una bambina però sicuramente molto più piccola di questa una volta creata la mattonella centrale per ingrandirla sono andata a fare dei giri di lavorazione di maglia alta certo punto io sono andata a riprendermi il panna che avevo utilizzato per il centro e fatto un giro con maglie alte dello stesso colore e infine ho rifinito con una cucitura ben in vista fatta all'uncinetto le mattonelle potete decidere voi come alternare i colori e come in che posizione appunto lavorare le righe contrastanti vediamo oggi il centro come si rifinisce come si squadra questa questa mattonella e magari il primo giro di maglia alta il resto ve lo spiegherò allora cosa facciamo prendiamo il nostro filato chiaro io ho scelto un filato chiaro per il centro dobbiamo andare a montare 16 maglie alte per la parte centrale le nostre 16 maglie alte io preferito farle su una catenella diciamo su un cerchio un cerchio magico allora mettiamo giriamo il nostro cerchio magico abbastanza lasciamo un po di lana facciamo 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta 2 e 3 e poi affianchiamo altre 15 maglie 2 3 4 e così via ok ci vediamo alla fine del giro con le nostre 16 maglie alte una volta che ho ottenuto le mie 16 maglie alte devo chiudermi con una maglia bassissima nella terza delle 3 catenelle del fatte all'inizio a questo punto dobbiamo andare a raddoppiare i punti da 16 ne dobbiamo ottenere 32 mi alzo con 3 catenelle nello stesso punto faccio la seconda catenella in ogni spazio del cioè in ogni maglia alta del del giro precedente bisogna lavorare 32 2 maglie alte per un totale di 32 ok queste questo è il secondo gruppetto poi vado qui terzo gruppetto di due quindi dobbiamo fare i nostri aumenti un aumento per ogni maglia sottostante mi raccomando contate alla fine di ogni singolo giro le maglie lavorate per non per non sbagliare ci vediamo alla fine del giro continuate così fino ad avere 32 maglie finite le mie 32 maglie alte contatele come detto prima vado a chiudermi nuovamente nella terza delle 3 catenelle in questo modo allora adesso dobbiamo andare a lavorare i nostri diciamo ventaglietti i nostri ventaglietti sono costituiti da 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte vanno lavorate ogni volta saltando due gruppi allora io sono posizionata al centro di due gruppi e quindi vado direttamente a lavorarmi qui dove ho chiuso spero si veda il primo gruppetto quindi faccio 3 catenelle che sono la prima maglia alta un'altra maglia alta 2 catenelle e 2 maglie alte mi devo spostare un attimo perché si sente il bracciale 2 maglie alte ok poi filo sull'uncinetto salto questo gruppetto salto quest'altro nella chiusura della seconda maglia alta del secondo gruppetto perché a me viene molto più comodo lavorando nella chiusura delle maglie alte faccio l'altro ventaglietto non non mi piace lavorare al centro dei gruppetti perché si dilata troppo il lavoro già è un filato morbido quindi lavoro direttamente nelle chiusure delle maglie filo il sull'uncinetto salto questo gruppo vado nel gruppo nel gruppo accanto nella chiusura vado a lavorarmi di nuovo il mio il mio ventaglietto e continuo così fino alla fine del del lavoro ok in questo modo si sta creando il fiocco il fiocco di neve centrale ci vediamo alla fine del giro a conclusione di questo giro devo ottenere 8 ventagli 1 2 3 4 5 6 7 8 io li chiamo ventaglio sono punti v con la doppia maglia alta finiti i miei 8 ventagli vado a chiudermi con la maglia bassissima nella terza catenella aggiungo un ulteriore maglia bassissima nel centro del ventaglietto in modo da trovarmi direttamente qui per la lavorazione del di un ulteriore giro di aumenti devo dire che per essere precisi questa questa forma in questa mattonella con il fiocco di neve centrale l'ho trovata su pinterest ma ho portato delle modifiche per renderla più grande proprio perché ne volevo fare il centro di un capo d'abbigliamento e quindi adesso il giro che andrò a fare è un giro appunto aggiuntivo fatto da me quindi sono andata ad alzarmi con 3 catenelle questa volta invece di lavorare solo 2 maglie alte in ogni spazio che sono andata a comporre a creare vado a lavorare 3 maglie alte 2 catenelle ed ulteriori 3 maglie alte in modo da ingrandire di più la mia lavorazione mi sposto nel nello spazio seguente faccio la stessa cosa 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte e continuo così facciamo questo che è il secondo tre maglie alte si continua così per tutto per tutto il giro ok ci vediamo alla fine per vedere poi l'ultimo giro dei ventagli come va lavorato finito anche questo giro sono arrivata nel momento in cui devo andare a ultimare il fiocco allora l'ultimo giro questa volta vedrà come motivo sempre l'aumento di una di due maglie alte per ogni ventaglio quindi chiudo con una maglia bassissima chiudo qui con un altra bassissima mi pongo al centro della lavorazione faccio 3 maglie 3 catenelle due altre 3 maglie alte 2 3 e 4 perché comunque voglio aumentare ulteriormente metto 2 catenelle e vado a mettere altre 4 maglie alte 2 3 e 4 mi sposto e vado a fare la stessa cosa 4 maglie alte 1 2 3 e 4 le due catenelle di separazione altre 4 maglie alte e continua così fino alla fine della lavorazione quindi questo concluderà la parte panna del rosone centrale della stella in realtà ho fatto un fiocco scusate continuo così fino alla fine allora giunto al termine anche di questo giro non mi resta che tagliare il color panna lo taglio qui e vado a chiudere ho lasciato un po più di filo questo è il risultato della parte panna adesso cosa dobbiamo fare dobbiamo andare a contornare con il blu il nostro la nostra stella scusate il nostro fiocco e squadrarlo perché appunto in questo modo in pratica da questa forma dobbiamo ottenere un quadrato allora mi vado mi devo andare a posizionare al centro di uno dei ventagli realizzati mi aggancio con il blu con una catenella faccio una maglia bassa vado a fare un'altra maglia bassa nella prima maglia alta del ventaglio così filo sull'uncinetto mezza maglia alta qui poi fino ad arrivare all'altro all'altro spazio del ventaglio vado a lavorare con le maglie alte qui saranno due su questo ventaglio poi ce ne saranno quattro per arrivare nello spazio e faccio una due tre la quarta qui l'unica cosa è stare attenti farla nella maglia alta sono altre quattro quindi per arrivare da questa parte ho fatto la maglia bassa poi un'altra maglia bassa sulla prima delle maglie alte lavorate mezza maglia alta e 6 maglie alte sono arrivata nell'angolino il mio angolo sarà costruito con 3 maglia alte 3 catenelle 3 maglie alte 2 e 3 3 catenelle 1 2 e 3 altre 3 maglie alte 1 2 e 3 il primo angolo è venuto fuori eccolo qui allora adesso per giungere qui dove faremo il diciamo il centro del lato dobbiamo andare a lavorare 4 maglie alte su queste quattro più altre due qui quindi un totale di 6 maglie alte consecutive io le ho conteggiate con sé perché a me viene molto più comodo sia da un lato che dall'altro quindi 3 4 5 6 poi faccio la mezza maglia alta la maglia bassa qui nell'ultima maglia alta disponibile e una maglia bassa qui ripeto dall'altro lato maglia bassa mezza maglia alta 4 maglie alte una scusate 6 maglie alte 2 3 4 5 6 poi faccio l'angolo che è formato da 3 maglie alte 3 catenelle 3 maglie alte 1 2 e 3 3 catenelle 1 2 e 3 e 3 maglie alte 1 2 e 3 maglie alte 1 2 e 3 e vado a lavorare questa successione per tutti e 4 i lati così da squadrare la mia mattonella allora arrivati a questo punto il mio modulo è ultimato questo è il modulo di partenza cosa ho fatto io sono andata a ribordare il tutto con dei giri di maglie alte con degli aumenti ok si fanno gli aumenti tutti intorno poi per poter come vi faccio vedere qui allora ho fatto questo e giro finale della mattonella poi sono andata a montare altri due giri di maglie alte col blu sono andata a montarmi un giro panna e ulteriori tre giri blu il la mia mattonella misura 35 centimetri e bella grande quindi voi potete farla decisamente un po più piccola e ve l'ho detto io l'ho pensato soprattutto non so se abbiamo un piumone vecchio da voler riciclare rinnovare mettiamo questa sopra e darà un aspetto totalmente diverso al vecchio piumino poi quando si vanno a cucire le mattonelle tra di loro dovete mettere dritto scusate rovescio contro rovescio in questo modo e ho fatto una cucitura adesso proviamo a farne una su un lato per vedere come fatto allora intanto smonto chiudo questa mattonella tanto possiamo trovare a cucirla ugualmente anche se appunto non è ancora sbordata con gli altri giri di maglie alte infatti più logicamente che aumentiamo i giri di dopo comunque un ulteriore giro di maglia alta la nostra mattonella è completamente quadrata adesso ancora tutta bella ondeggiante ed è normale perché al suo interno ha inglobato delle punte cosa faccio mettiamo il caso io avessi concluso il mio lavoro vado a mettere rovescio contro rovescio tipo così e vado poi a cucirmi con delle maglie bassissime soltanto parto da mettiamo questo è il mio centro soltanto una una parte delle maglie cioè soltanto la una un'asola quella più vicina a noi del delle maglie alte retrostanti faccio in questo modo messo il mio uncinetto ho realizzato un piccolo cappio io in genere lo faccio direttamente però con registrando mi viene più semplice così poi cosa faccio solleva il lavoro prendo la costina più esterna di qua prendo la costina più interna dall'altro lato coincidente quelle coincidenti qui logicamente non posso farlo perché sono due mattonelle diverse comunque in questo modo prendo la costina più esterna che vedo quella più interna della mattonella che ho dietro e continuo così a fare queste cuciture mi raccomando e verso della cucitura perché potete sbagliare durante l'assemblaggio andiamo avanti per un altro paio di punti vi faccio vedere l'effetto si crea questa sorta di catenella da questo lato e tipo dei mezzi punti bianchi sul lato panna sul lato opposto questa è la cucitura che ho realizzato io tra una mattonella e l'altra come detto volevo rendere collo più stretto del mio poncho quindi sono andata ad aggiungere una serie di di giri di maglie in costa maglie alte in costa ve le faccio rivedere però potete continuare allora quando andate a mettere se vi rendete conto che il vostro poncho è bello ampio e voi avete perché la scollatura è molto abbondante voi avete comunque l'esigenza di avere una scollatura più stretta aggiungete del delle diminuzioni nei laterali cioè nei laterali cioè dove sono in pratica le punte delle mattonelle quindi a io anche qui avevo fatto qualche diminuzione nel momento in cui mi trovo a questo punto vado a lavorare ad esempio nel giro successivo queste due maglie chiuse insieme in modo da poter stringere ulteriormente il il collo a meno che come detto e lo ripeto nuovamente non volete mettere il poncho su un piumino e quindi già se il piumino ha il cappuccio ha un collo abbondante questo va benissimo se no riducete comunque leggermente la mattonella e aggiungete poi un collo con delle diminuzioni spero che l'idea vi sia piaciuta come vedete abbastanza versatile quindi può essere adattata alla realizzazione dei diciamo delle nostre dei nostri poncho o delle casacchine nessuno toglie di realizzare due mattonelle molto grandi chiuderle in parte farne un collo e poi utilizzate come maglioncino farci le maniche o altro di fantasia chi ne ha ne può ne può cioè la può mettere in atto spero che l'idea creativa vi sia piaciuta se così mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella buona creatività da uncinetti allo sbaraglio al prossimo tutorial